Musica 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 il fatto di essere un sacco a scuola un sacco di lavoro a loro e con un nuovo giro di essere se non si rinca la prima sua parte se non si rinca la prima sua parte a lui a lui la prima cosa da me spomierà ovo se mi rada ovo ma buona 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 No, 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 no. Grazie a tutti.